e buonasera benvenuti a un'altra puntata di voyager quest'oggi ci troviamo sono in compagnia con le guide locali ci troviamo nel monte di lignano in provincia di arezzo precisamente rigutino abbiamo guardate abbiamo già fatto mezz'ora dentro la foresta selvaggia abbiamo trovato già cervi caprioli lupi daini qualche leone scimmie salamandri giganti e devo dire che è molto molto suggestivo lo consiglio a tutti di venire qui anche chi abita dall'altra parte del mondo diciamo in asia perché non sono abituati a una flora oddio no la cosa brutta che guardate è tutto in diretta non sto scherzando sono in una grotta neolitica guardate ancora c'è scritto a basso a basso a basso rovazzi vabbè a basso rovazzi ok quello l'hanno scritto e è molto molto bello e niente praticamente diciamo oggi ora ci stiamo addentrando ci addentriamo in mezzo alla foresta quindi ci sentiamo alla prossima puntata di voyager quindi un saluto a tutti e arrivederci e vi anche le guide locali che servono a ben poco dato che sono io la cavia che va avanti arrivederci grazie